La digitalizzazione e l'interconnessione sono strumenti strategici in questa fase di rinascita per la Regione? Lo sono sempre e lo sono di più in questi nostri tempi attuali in cui siamo impegnati dopo la fase della gestione dell'emergenza nella fase della ricostruzione. E già questi strumenti hanno dimostrato di quanto siano stati importanti per far dialogare innanzitutto le comunità tra di loro, le comunità sociali, politiche, istituzionali, che altrimenti non ce l'avrebbero fatta. Sono strumenti tra l'altro indispensabili per cogliere gli obiettivi della trasparenza, della semplificazione, dell'efficienza amministrativa. Strumenti altrettanto importanti perché attraverso la trasparenza che viene garantita dalla possibilità di accedere, attraverso questi strumenti noi costruiamo quel ponte di dialogo tra le istituzioni, la politica ed i cittadini. E questo dialogo è fondamentale in una fase come quella appunto della ricostruzione perché c'è bisogno anche di ricostruire un senso di fiducia tra le istituzioni, la politica, i cittadini in questi momenti così difficili. Quindi questi strumenti sono assolutamente diciamo irrinunciabili.